Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno agli ascoltatori di Radio Nettuno, benvenuti a chi ci segue in streaming NettunoTV.tv Subito purtroppo l'apertura con un incidente avvenuto a Castel San Pietro, una donna di 84 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere stata coinvolta in un incidente in via Viara lungo la provinciale 21 che porta a Castel San Pietro Terme sul posto è arrivato anche l'elisoccorso insieme all'ambulanza e alla Polizia Municipale, una seconda persona coinvolta ha riportato ferite di media gravità ancora in corso la ricostruzione dell'accaduto ma dai primi accertamenti un'auto si sarebbe scontrata contro un garreile e una persona sarebbe rimasta travolta nell'impatto Via Petroni, torniamo in Piazza Verdi, passa, lo riconosce, mi ha rapinato giorni fa, stava percorrendo Via Petroni e il suo sguardo è caduto su un passante erano circa le 20 di ieri sera quando un bolognese ha chiamato la polizia per segnalare che aveva appena visto il rapinatore che qualche settimana fa gli aveva strappato la catenina d'oro dal collo il soggetto in questione che era in compagnia di un amico e un marocchino del 95 fermato dagli agenti è stato denunciato per rapina il suo connazionale sempre in Piazza Verde aveva addosso oltre 5 grammi di hashish e 0,12 grammi di cocaina oltre a 115 euro in contanti, entrambi sono risultati essere irregolari sul territorio e quindi sono stati denunciati ma purtroppo nonostante l'irregolarità della loro presenza erano sul territorio in Piazza Verdi e a delinquere e adesso ci occupiamo invece di trasporto, il governo si tira fuori per ora nessun ingiudizio sul holding delle aziende di trasporto pubblico regionale per rintuzzare la concorrenza delle grandi aziende nelle gare dopo il caso di Parma la competenza ha fatto notare questa mattina il vice ministro ospite a Bologna di un incontro organizzato dalla CIS il vice ministro Riccardo Nencini è soprattutto regionale quindi non commento e aspetto alla prova dei fatti che si verifichi con certezza ciò che si prefigge la regione soprattutto dal punto di vista dell'utenza con la riforma del trasporto pubblico locale i sindacati chiedono garanzie ovviamente per i contratti dei lavoratori nel caso di appalti vinti da privati Giuliano Zignani, segretario regionale della UIL, torna sul rinnovo del contratto TIPER e chiede che parte degli utili siano utilizzati come incentivi per i lavoratori lo ha intervistato per voi Michela Conficconi sulla riforma del trasporto pubblico noi diciamo che noi siamo in una regione che è naturalmente all'avanguardia a livello nazionale ma non solo anche a livello europeo è una regione che ha lavorato in questi anni, abbiamo lavorato tutti insieme per quel che riguarda le tre grandi macro aree abbiamo contribuito come sindacato e come lavoratore a fare in modo che i bilanci di queste aziende nel tempo venissero risanate oggi le garanzie che noi chiediamo è che comunque si rispettino le regole del gioco e le faccio un esempio in una città come Bologna sono due anni che discutiamo di un rinnovo di contratto di lavoro per quel che riguarda il contratto integrativo aziendale eppure da due anni non abbiamo ancora raggiunto un accordo allora se è vero come è vero che lavoratori e impresa insieme hanno fatto e hanno lavorato e hanno contribuito per risanare i bilanci di queste aziende e oggi per fortuna si comincia a parlare di redistribuzione degli utili beh io penso che qualcosa debba essere comunque anche destinato al lavoratore perché il lavoratore è parte integrante di questo processo di trasformazione dell'azienda di rinnovamento delle aziende allora questo era Giuliano Zignani appunto come detto il sindacato con questa riforma del trasporto pubblico locale chiede delle garanzie sui contratti dei lavoratori e poi anche tornato sul rinnovo sul contratto di Tiper noi siamo collegati in diretta la ringrazio per questo perché ha partecipato anche lei a questo convegno della mattina la Presidente Giuseppina Gualtieri che saluto buongiorno e benvenuta Presidente buongiorno a tutti allora intanto appunto diciamo c'è questo passaggio c'è una riforma c'è un Vice Ministro che dice qualcosa a livello regionale e locale il Governo se ne tira un po' fuori cos'è che concretamente potrebbe cambiare quali possono essere i benefici anche per gli utenti? ma intanto quello che abbiamo riconfermato oggi è che dal punto di vista del quadro normativo nazionale molte delle cose che comunque sono anche positive come la stabilizzazione del fondo unico per il settore eccetera sono delle questioni che a livello della nostra regione confermano quello che era già stato deciso e fatto nei nostri territori poi lotta all'evasione altre cose che prevedono le norme ricalcano di fatto quella che è la nostra legge regionale cioè la legge 30 quindi da questo punto di vista aspetti assolutamente diciamo così innovativi noi non ne abbiamo visti dal punto di vista la lotta all'evasione cioè tutte cose che ovviamente stiamo già come voi ben sapete avviando poi si è parlato ovviamente di quadro generale di gare e qui abbiamo confermato che evidentemente è importante che le aziende e questo è stato confermato anche come orientamento generale abbiano delle dimensioni adeguate per poter essere in grado di affrontare in realtà quello che io ho detto non tanto il tema non è le gare le gare sono uno strumento il tema è bisogna affrontare gli investimenti e tutto ciò che serve per fare un migliore servizio di trasporto pubblico per l'utenza ovviamente il tema dei lavoratori è un tema importante ecco noi non abbiamo certamente sottovalutato come azienda e non sottovalutiamo questo abbiamo fatto parte attiva come azienda nel rinnovo del contratto nazionale di lavoro che è stato firmato alla fine del 2015 e adesso siamo in una fase di trattativa nel pieno rispetto di corrette relazioni industriali anche per il rinnovo dell'integrativo che comunque è già esistente in azienda quindi diciamo un messaggio di grande tranquillità quello che sta dando ovviamente ai sindacati e anche alle richieste di Zignani nel particolare visto che poi il convegno di oggi è organizzato proprio dalla UIL ma io credo che nel nostro caso avendo un'azienda che comunque allora dal punto di vista delle relazioni industriali e credo che lo abbiano riconosciuti oggi il convegno della UIL ma anche le altre rappresentanze noi abbiamo un rispetto degli accordi e una modalità di relazioni industriali credo molto molto attento poi è chiaro che quando un'azienda fa assunzioni come abbiamo fatto già nel 2016 abbiamo assunto 91 persone dove il 99% sono assunzioni a tempo indeterminato è chiaro che diventa anche un contesto meno critico rispetto magari ad altri contesti lavorativi se ne è parlato anche oggi nel convegno il settore del trasporto pubblico lo ha detto lo stesso viceministro cioè ha una situazione molto diversa nel territorio nazionale quindi ci sono realtà molto in grande difficoltà e quindi è chiaro che ci sono dei momenti di criticità molto più alti che per fortuna al momento non riguardano il nostro territorio Benissimo, grazie alla Presidente Tipea Giuseppina Gualtieri grazie e buon lavoro Grazie altrettanto, arrivederci Grazie, grazie Allora noi cogliamo l'occasione perché poi diciamo al di là del convegno di questa mattina in realtà avevamo già invitato e siamo contenti di questa bella coincidenza il Presidente di SACA è Alessio Passini che nei nostri studi che saluto subito Buongiorno e benvenuto Buongiorno a voi Allora, restiamo un attimo su questo tema del convegno anche sulle parole della Presidente Gualtieri? Sì Guardate, noi in Emilia Romagna e soprattutto a Bologna siamo stati un caso particolare e brevemente noi siamo l'espressione che il rapporto pubblico-privato può funzionare come ha detto l'assessore Donini negli incontri che ha fatto in tutte le province dell'Emilia Romagna il mese scorso fino a finito il mese scorso ha certificato che il 30% del servizio pubblico-locale viene svolto dalle imprese private del territorio noi siamo un'impresa privata del territorio a Bologna abbiamo costruito un modello speriamo di poterlo esportare in tutta l'Emilia Romagna Quindi il rapporto può assolutamente esserci e ricordiamo che tra l'altro come sa che a voi gestite molto anche dell'Appennino Bolognese mi raccontavo ora di un'espensione anche nel Reggiano quindi in realtà Noi serviamo l'Appennino Bolognese crediamo nel territorio dell'Appennino Bolognese nonostante la sua conformazione non sia delle migliori per fare economia ma siamo sicuri che possa essere attraverso soprattutto il turismo un volano di sviluppo per tutto quanto la città metropolitana di Bologna svolgiamo anche servizi sull'Appennino Modenese e Reggiano sempre di trasporto pubblico locale e ci rendiamo conto che questa sinergia quindi che abbiamo anche con l'azienda pubblica di Modena e Reggio ci porta e porta alla comunità dei grossi benefici Allora un po' di sacca nel senso che è una lunga storia intanto Sì, noi nasciamo nel 1972 da nove soci facevano autonoleggio con conducente autovetture adesso siamo 169 soci 212 dipendenti diretti per un totale compresi dipendenti indiretti di circa 655 unità da rilevare come dal 2008 anno della crisi siamo riusciti ad aumentare i posti di lavoro di circa 80 unità questo è un grosso vanto per noi ma per la cooperazione per la resilienza della tutta la cooperazione in questo momento oltre al noleggio con conducente che è rimasto il nostro motore facciamo trasporto merci trasporto facciamo turismo con servizi con pullman quindi da 8 posti fino a oltre 64 posti facciamo TPL e in più facciamo degli altri tipi di servizi che sono servizi che abbiamo costruito noi nel tempo e sono i collegamenti con l'aeroporto di Bologna dalla città di Modena e dal primo di giugno anche dalla città di Resimiglia e inoltre abbiamo cominciato nel luglio 2007 2016 con un servizio che si chiama Explora 5 Terre perché noi siamo attivi anche sulle 5 Terre cioè fra La Spezia e Genova siamo attivi facciamo trasporto pubblico locale in Liguria ed è un collegamento su gomma con dei minibus da 22 posti e siamo contenti perché ha dei notevoli riscontri positivi e quindi siamo molto orgogliosi di ciò senti il rapporto con TPER per tornare anche a casa nostra quindi è buono il rapporto con TPER è buono siamo molto contenti siamo contenti di poter dare un servizio alla comunità soprattutto siamo contenti di poter mettere insieme le nostre competenze per poter avere dei dati o comunque sia dei bilanci sia noi che loro di queste portate allora mentre la regia la ringrazio sta sfogliando anche il sito vostro di SACA parliamo dell'estate nel senso ci sono dei servizi verso le località turistiche ricordiamo l'Appennino c'è un grande progetto che riguarda anche il turismo in Appennino anche Nettuno TV è in Appennino col suo camper per cui effettivamente diciamo che succede quest'estate Passini? per adesso quest'estate noi colleghiamo la città di Bologna oltre a quella di Modena e di Reggio Emilia ma principalmente di Bologna con tutta la riviera romagnola partendo dai lidi di Comacchio arrivando fino a Gatteo Mare è un collegamento giornaliero mattutino cioè un'andata alla mattina fra le 7.45 e le 8 e un ritorno per essere a Bologna fra le 20 e le 20.30 in modo tale da poter permettere alla gente di arrivare a casa colleghiamo oltre alla riviera romagnola visto che ci passiamo anche il parco di Mirabilandia e quindi riusciamo ad avere a dare anche ai giovani un'opportunità di svago per una giornata a dei prezzi estremamente competitivi benissimo grazie ad ora D'Alessio Passini buon lavoro davvero Presidente della SAC grazie di essere stato nostro ospite noi andiamo avanti con il nostro giornale adesso ci occupiamo invece di Master oggi la termine diciamo del ciclo di questo Master parliamo di Spisa andiamo allora subito a sentire intanto dal Presidente del Master Carlo Bottari proprio un po' come dire come è andata quest'annata l'intervista di Mario Giuliante come ci ricordava Romano Prodi in apertura è fondamentale che questi giovani non solo ricevano una formazione adeguata ma che siano anche accompagnati nella ricerca di una soluzione che possa suscitare anche i loro entusiasmi perché poi è quello fondamentale come ci ricordava anche lo stesso Bazzoli nella sua relazione splendida che bisogna avere molto senso civico senso civico sia se si fa qualcosa con entusiasmo non che si faccia qualcosa perché si è forzati o perché non si è trovati di meglio a fare qualcosa noi cerchiamo di sviluppare nei nostri allievi anche questa sensibilità cercare di accompagnarli per individuare quelle modalità di svolgimento di un'attività come quella del giurista di impresa che può avere tante sfaccettature e di queste sfaccettature dobbiamo cercare di cogliere sempre le ottimali Per quanto riguarda i giovani Prodi ha sottolineato come sia importante formarli però poi in realtà l'Italia li perda ecco cosa bisogna fare secondo lei da professore per cercare di trattenerli qui? Secondo me molti li perdiamo ma molti poi vengono a lavorare in Italia è chiaro che noi siamo in un sistema economico che sta cercando faticosamente di riprendersi altri hanno già se noi pensiamo agli Stati Uniti pensiamo a altri paesi è chiaro che hanno maggiori possibilità quindi se i giovani poi tendono a spostarsi verso l'importante è che poi dopo tornino ma molti di questi poi alla fine tornano quindi io non mi fascerei la testa per il fatto oggi poi viviamo in una dimensione dove la circolazione deve essere agevolata quindi c'è chi va e c'è chi viene cerchiamo di prendere anche i migliori e non prendere solo i peggiori questa è la cosa fondamentale Presente anche il Presidente Romano Prodi con l'occasione di parlare del Master ma poi Mario Giuliante ha tentato l'affondo sulla politica nazionale sentiamolo avremmo bisogno davvero tanti di questi Master ma soprattutto bisognerebbe poi far squadra in modo che possano rimanere qui in Italia no? perché riflettevi in questi giorni facciamo dei corsi bellissimi per regalarli ai tedeschi agli iglesi agli americani noi dobbiamo continuare ampliarli approfondirli ma anche preparare delle squadre perché poi possano rimanere l'Italia e attrarre anche stranieri da noi per quanto riguarda il fatto che appunto i giovani vanno via dall'Italia è un problema anche politico come sta la politica italiana? ma non mi tiri dei tranelli in modo indiretto no? qui è un dramma quello dei ragazzi all'estero che si sta aggravando nel tempo qui non è una decisione di governo che può cambiare tutto qui veramente ci vuole un paese che riprenda fiducia in se stesso che riprenda fiato che sono stati credo adesso la cifra potrei sbagliare di qualcosina ma 700.000 persone che sono andate all'estero negli ultimi sei anni e il numero è crescente oltre il 40% sono laureati cioè voglio dire noi spendiamo dalla scuola materna fino ad arrivare dopo laurea un ragazzo costa lo Stato ai 400-500 mila euro no? contando quello che costa non quello che paga ma quello che costano le maestre dell'asilo le maestre elementari i professori di scuola media le università e così via e poi arriva prende il diploma e lo regaliamo agli altri paesi ecco questo per me è il punto più grave della nostra Italia e adesso parliamo invece di sanità perché ci sarà una riduzione dei posti per in questo periodo estivo ambulatori accorpati sali operatori chiusi e reparti a mezzo servizio la sanità della città metropolitana bolognese diminuirà la velocità durante questo periodo i primi tagli sono già in vigore da inizio giugno ma il club arriverà tra la fine di luglio e i primi dieci giorni di settembre dove soprattutto le strutture più grandi vedranno la propria potenzialità ridursi anche del 40% a Bazzano per esempio nessuna variazione rispetto all'anno scorso anzi c'è la novità positiva i giorni di riduzione passano da 47 a 42 a Porretta Terma sali operatori aperte solo per le urgenze qui andiamo anche un po' nelle zone della pianura e anche dell'Appennino ad esempio a Loiano tornano i tagli dopo un 2016 senza riduzioni seppur ridottissimi oncologia un posto in meno per solo 5 giorni e adesso cambiamo pagina modernizzazione delle imprese del terziario di mercato un software per la creazione di benchmark territoriali di bilancio è stato presentato questa mattina nella sede di Confcommercio Ascom Bologna ne ha parlato con Mario Giulianti e Stefano Giorgi vice direttore generale di Confcommercio Ascom sentiamolo questo software perché in pratica di software si tratta è un software che abbiamo poi classificato e diviso per aree territoriali omogenee quindi abbiamo tutti i dati della città metropolitana di Bologna li abbiamo suddivisi per Bologna città provincia pianura e zona penninica e per categorie metrologiche merceologiche così in estrema sintesi in estrema analisi noi siamo anche in grado di dire dell'andamento in un determinato comune della provincia di Bologna di quella determinata categoria questo per dare il massimo della sintesi possibile e delle indicazioni più particolarizzate possibile per le aziende per le aziende è anche un aiuto maggiore anche per vedere com'è il loro andamento come va il loro andamento certamente per le aziende è certamente un maggior aiuto e un supporto importante ma abbiamo creato questo software anche in un'altra ottica nell'ottica di aiutare coloro i quali vogliono creare un'impresa coloro vogliono iniziare dare inizio a un'attività commerciale o di servizi o turistica a vedere esattamente come stanno andando le altre aziende sul territorio per avere un raffronto per farsi un po' le idee anche su quello che debbono fare questo è un servizio che credo che sia quasi unico nella nostra realtà ad oggi aggiungerei un'altra cosa importante che abbiamo a seguito di una convenzione e di un accordo che abbiamo fatto con una delle società europee più importanti nella divulgazione dei dati commerciali siamo in grado anche di geolocalizzare le aziende già presenti in un determinato territorio per cui se viene presso i nostri uffici presso i nostri consulenti a chiedere assistenza un qualsiasi potenziale imprenditore per dire voglio aprire un bar a Bologna in via Massini noi siamo in grado di dire guarda che quella zona lì è già coperta da questi bar e riusciamo a geolocalizzare la proposta anche questo è un servizio innovativo che l'associazione mette a disposizione di tutti gli imprenditori o potenziali imprenditori del commercio turismo e servizi è finita poco fa la conferenza stampa di presentazione del sussidio pastorale la gioia del Vangelo nel turismo che è stato elaborato dalla commissione regionale turismo sport e tempo libero della conferenza episcopale dell'Emilia Romagna hanno partecipato il presidente arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo Zuppi e anche il vescovo di Fidenza delegato della CER per la pastorale turismo sport e tempo libero stiamo parlando di sua eccellenza Monsignor Mazza lo ha intervistato per voi Elisa Ornaldi Cosa troveremo in questo sussidio? Tutto quello che desidera innanzitutto bisogna accostarsi leggerlo un pochettino verificare se corrisponde a una realtà che non sia una cosa stratta e che soprattutto interpreta ciò che sta dentro di noi cioè quelle domande che spesso rimangono irrisolte e che forse piccolo con molta modestia il nostro piccolo sussidio può aiutare a rispondere Quindi Vangelo e Turismo possono andare a braccio Assolutamente sì il Vangelo va bene dappertutto e non solo col turismo ma noi vediamo che va in modo particolare bene al turismo perché essendo il turismo un tempo di gioia un tempo di divertimento un tempo di star bene ecco il Vangelo è la gioia la gioia di essere salvati da Gesù e allora il turismo può diventare un momento particolarmente indicato per poter sperimentare se stessi e sperimentando se stessi non posso che riferirmi a qualcun altro che può riempire la mia sete di felicità Quali sono secondo lei le chiavi di comunicazione giuste per parlare con i turisti per affascinarli col Vangelo? Anzitutto che è un momento di gioia cioè la cifra più bella più interessante è proprio la gioia la gioia che è l'anticamera della felicità se non si è contenti non si è neanche felici quindi l'esperienza del turista che è così complessa articolata è movimentata notte giorno più notte che giorno eccetera eccetera forse questa esperienza della gioia è quella più profonda che lascia il segno per cui io nel mentre mi diverto mentre mangio mentre prendo il sole mentre faccio quello che penso è più giusto io acquisto una dimensione più profonda di me stesso e forse trovo una pace che mi manca trovo trovo una compagnia che mi manca nel senso che la mia solitudine viene superata non da uno sforzo di chissà quali relazioni ma stando accanto agli altri vivendo bene con gli altri e questo mi dà un senso di di grande serenità e di grande anche pace tutto sommato mi piace molto questo bene ci fermiamo c'è il break pubblicitario rientro la pagina sportiva in studio ci sarà Giacomo Bianchi state con noi ben ritrovati i telespedatori di Nettuno TV apriamo la pagina sportiva lo facciamo parlando del Bologna ieri è stato ufficiale l'arrivo in rosso-blu di Giancarlo González difensore costaricano che arriva dal Palermo si è subito presentato ai microfoni del sito ufficiale del Bologna allora andiamo a sentire che cosa ha detto Giancarlo González benvenuto a Bologna quali sono le tue prime sensazioni all'arrivo in questa città grazie sono troppo felice di essere qua e non vedo l'ora di cominciare a lavorare con la squadra ho venuto qua a giocare un paio di volte ma lo so che è una grande città che è un club di storia per il calcio italiano e sono troppo felice di arrivare qua sono giocatore che piace lavorare tanto in campo di dare il massimo per la squadra per dove sono stato il tuo soprannome è il Pipo che cosa significa e da dove viene questo è un nickname che mi hanno messo da piccolo dopo quando ho cominciato a giocare in prima divisione un giornalista ha sentito mi ha cominciato a dire così e ho rimasto così classe 1988 come detto arriva dal Palermo ed è il primo nuovo acquisto della prossima stagione del Bologna che a breve dovrebbe ufficializzare anche l'ingaggio di De Maio e quello dalla Ternana di Avenatti e Falletti per quanto riguarda invece la campagna abbonamenti il Bologna ha fatto presente che dal 3 luglio comincerà la campagna abbonamenti un video sul sito dei Rosso Blu inaugura un po' in anteprima quello che sarà appunto la campagna abbonamenti che verrà presentata come detto a partire dal 3 di luglio per quanto riguarda il mercato invece le ultime ore danno una suggestione Wesley Snyder per Joy Saputo che vorrebbe portarlo in Montreal Impact chissà che non possa nascere un'operazione simile a quella di Blair In The Miley per l'ex giocatore dell'Inter in questa ultima stagione in forza al Galatasaray i mercati in uscita invece che vede Mario Seconomu e Luca Rizzo sempre più lontano da Bologna potrebbe esserci per loro un passaggio alla spalla mentre per quanto riguarda Eric Pulgar c'è il forte interessamento del Crotone e Gastaldello in bilico in questo momento tra il Benevento e il Venezia parliamo di mercato anche nel mondo del basket due ufficialità questa mattina in casa Fortitudo c'è il ritorno di Matteo Chillo l'ultima stagione l'ha passata a Rieti torna in Fortitudo squadra nella quale è cresciuto giocherà con il numero 15 e questa è la foto chi ti segue in tv la vede del ritorno e del bentornato a casa da parte della squadra bianco blu per Matteo Chillo insieme a lui viene tesserato anche un giovane classe 1999 si chiama Marco Murabito arriva dalla Don Bosco Trieste nell'ultima stagione si è alternato tra il settore giovanile di Trieste e la C Silver con la Don Bosco Trieste chiudendo a 15 punti di media in C Silver risultando decisivo nelle fasi finali del campionato per la salvezza ai play out della squadra triestina questo per quanto riguarda la Fortitudo in casa Virtus invece si pensa al futuro si parla di mercato potrebbe essere molto vicino all'arrivo di Pietro Aradori ma nei giorni scorsi ne abbiamo sentito anche Stefano Gentile che ci ha parlato di quella che è stata la sua stagione in casa Virtus del mercato un eventuale coinvolgimento del fratello Alessandro e anche del futuro per la prossima stagione andiamo a sentirlo sicuramente è stata una grande gioia ma allo stesso tempo è proprio stato un momento di sollievo per me perché comunque sono arrivato subito in prima linea abbiamo cominciato subito i play off quindi non ho avuto un momento di stacco anche mentale dalla concentrazione di dover di dover vincere tra virgolette perché comunque sono arrivato e comunque la pressione oggettivamente c'era di dover vincere e quindi soprattutto questo sollievo questa sensazione di relax è molto piacevole si parla anche di mercato te hai un altro anno di contratto però tuo fratello provi a convincerlo ma guarda come dicevo questa notizia la prima volta l'ho letta l'ho letta anche io su internet su qualche sito così che parla di basket e da quello che ho capito in questo momento si sta un po' cercando di capire il tutto nel senso ci sono da sistemare dei tasselli sicuramente prima di poter arrivare a parlare di quello ma non credo che ci sia bisogno neanche della mia convinzione nel senso che comunque sposare un progetto così è molto facile come l'ho fatto io Quale deve essere l'obiettivo tuo e della Virtus nella prossima stagione in Serie A? Io ho cominciato a pensare l'anno prossimo già durante quest'anno nel senso che comunque vedevo che c'erano delle cose che facevo fatica a fare cose che mi venivano semplici e quindi per me individualmente l'obiettivo è adesso staccare un breve tempo e poi dopo ritornare subito a lavorare per farmi trovare ancora più pronto l'anno prossimo per riuscire a fare a fare del meglio per la prossima stagione obiettivi per quanto riguarda la squadra non ti posso dire sicuramente sarà di continuare sulla strada che è stata tracciata lungo tutta questa stagione e lungo questi playoff continuare ad attrarre persone ad attrarre affetto da parte del pubblico dando sempre il massimo sul campo era l'ultima notizia della nostra pagina sportiva vi ricordo alle 18 l'appuntamento con Nettuno Sport grazie alla regia di Filippo Patti e Mauro Giulianti buon pomeriggio buon proseguimento con Nettuno TV